Olimpia con Fiorentina, forse la finale europea più brutta che ho mai visto in vita mia si è chiusa a sfavore della Fiorentina L'ennesima volta ragazzi, io tutto pensavo tranne che avremmo dovuto commentare un'altra sconfitta della Fiorentina al finale di conference ma è successo Le responsabilità di chi sono? Bella domanda, questa è la domanda che ci facciamo tutti da ieri Ognuno ha la propria risposta, la mia si chiama Vincenzo Italiano Perché dal punto di vista tecnico credo che la Fiorentina non fosse così distante dall'Olimpia, anzi per certi versi forse è pure superiore Però l'approccio alla partita è stato veramente, veramente rivedibile È vero, la Fiorentina si è mangiata specialmente un gol enorme, enorme Però partita tatticamente molto povera, tatticamente molto povera La Fiorentina poteva e doveva fare di più e io continuo a non apprezzare particolarmente l'approccio tattico di Italiano nelle finali della Fiorentina Sembra sempre molto contratta la squadra e lì forse dipende da chi la gestisce C'è chi considera Italiano una sorta di genio della tattica, cioè chi lo massacra regolarmente Io credo che la verità sia nel mezzo, un allenatore discreto, nulla più Con un potenziale che quello è, ti porta in finale e poi però purtroppo non riesce mai a dare lo slancio Non mi è piaciuta la Fiorentina, ieri mi è sembrata troppo contratta, troppo arrendevole, troppo passiva in certi frangenti Contro un avversario che si hanno fatto fuori la Stombilla ma guardando l'Olimpia così ieri ti chiedi come abbiano fatto a far fuori la Stombilla Ed è un peccato perché la Fiorentina si sarebbe meritata a sta finale specialmente dopo averla persa l'anno scorso in quel modo In quel modo, sempre all'ultimo Una volta con West Ham, adesso con l'Olimpia Poi ieri pure sfortunati per certi versi perché quel gol, dovuto a una marcatura allegra E fuori gioco per un pelo che non sono riuscito a prendere Però è una partitaccia obiettivamente ragazzi, partitaccia da ogni punto di vista Ed è un peccato perché poi vabbè ci sarebbe stato anche risvolto il Torino in conference Adesso il pensiero mio è, considerato che la Fiorentina andrà a rifare la conference E che teoricamente la prossima edizione si prospetta la più leggera di tutte e tre Le attuali, anzi di tutte e quattro saranno le varie edizioni Visto che non ci sarà la cascata dall'Europa League alla conference Credo che la Fiorentina abbia l'obbligo morale di riprovarci e di portarla a casa il prossimo anno Però al di là di questa considerazione, peccato, peccato perché è una squadra che per carità non è attrezzatissima Credo che la Fiorentina abbia un grande problema che si chiama centravanti Gli attaccati alla Fiorentina sono molto molto poco efficaci in questo momento Non riescono a trovare continuità, diciamo così Però, quando un attaccato, cioè io mi ricordo anche lo stesso Belotti Belotti me lo ricordo a Torino, era un certo tipo di giocatore, va bene, giocavano per lui fondamentalmente Però, no? Poi Belotti va alla Roma e sappiamo com'è andata Adesso la Fiorentina si è un po' ripreso ma è lontanissimo da quello che era anche in giro di nazionale anni fa Zola a me piace molto come attaccante Gioca pochissimo, gioca pochissimo E quando gioca non riesce a incidere quanto dovrebbe, quanto ci si aspetterebbe L'ho trovato molto molto regredito rispetto a quando giocava nello Spezza, se non ricordo male, era Zola La sensazione è che l'italiano non riesca a far rendere le punte Guardandolo da fuori, io ripeto, non le guardo tutte le partite della Fiorentina ragazzi Mi baso su quel poco che vedo ogni volta che parlo di squadre che non sono la Lazio Però ho avuto quella sensazione che a livello offensivo la Fiorentina a volte faccia un po' troppa fatica E quello può dipendere anche dal mister Però, partita, partita che, che poi il bello è che la Fiorentina non aveva iniziato male ieri, anzi Vabbè che poi, no? Le cose hanno preso una piega un po' così E non me l'aspettavo onestamente Anche perché, ripeto, la Conference per quanto sia una competizione internazionale Era, era ed è alla portata di una squadra come la Fiorentina Specialmente una Fiorentina che ti immagini famelica in una finale In una seconda finale dopo aver perso l'anno scorso Cioè mi aspettavo un po' più di maturità nell'approccio alla gara Invece, per certi vesti, è stata una finale peggiore di quella giocata l'anno scorso con West Ham Per quel che mi ricordo, almeno Per cui, no lo so, mi dispiace onestamente Mi dispiace perché una Coppa Europea all'Italia avrebbe fatto comodo Come sempre, anche per un discorso di ranking, di prospettiva Però, io ripeto, spero che l'anno prossimo Comprisci una Conference ancora più abbordabile sulla carta La Fiorentina riesca a portarsela via In maniera un po' più Che poi toccherà capire cosa succederà con l'italiano adesso Se rimarrà, se andrà via Però ecco, da riconoscergli il percorso Perché comunque c'è tra i due finali Per quanto in una Coppa va bene Più modesta è Però è comunque un percorso Quello che si fa Però peccato arrivare sempre a E poi non riuscire ad aggrapparla mai sta Coppa Però Mi permettete due parole, due in chiusura di discorso Oggi voglio che sia un video anche abbastanza breve Per non accollarmi troppo Ma io capisco gli sfottò Non mi rivolgo a voi Lo so che siete persone di un certo tipo Era una riflessione a margine della partita Da quando la Fiorentina ha perso ieri Io ho visto su social vari Il proliferare la foto di quella famosa bambina No? Che è entrata In grande popolarità Per aver detto quella frase Mentre passava la telecamera Ce l'avete sicuramente presente A cosa mi riferisco Non metto foto perché sono minorenni Io ho visto Ieri Una certa Un certo accanimento Di che poi ti resta la cazzina Cioè Io Da romano So il primo Che capisce E incoraggia Lo sfottò sano Lo avrete in giro No? Ci sta Fa parte dello sport Però Sfogare E concentrare La propria frustrazione La propria antipatia Anche per una certa squadra Usando come Come simbolo Una ragazzina Io onestamente La trovo una cosa Veramente Veramente C'è Anche perché poi De quella storia Secondo me Se ne è parlato fin troppo E in maniera Fin troppo Paternalistica Ah perché Ah i genitori Le club Ragazzi Ma voi vi ricordate Io mi ricordo Com'ero da ragazzino Io me lo ricordo Io ero una testa di cazzo Fino a 15 anni Ma di quelle proprio Di quelle proprio Col certificato addosso Quindi voglio dire E credo che Per tanti valga lo stesso Per tanti valga lo stesso Però Però E ho un'ottima famiglia Voglio dire Ma quando anche non l'avessi I ragazzini Sono comunque i ragazzini Fanno i ragazzini Per qualsiasi motivo Possono fare i ragazzini Quindi mettersi lì a fare A fare no Gli esperti di Di pedagogia A valutare i risvolti Psicologici dei ragazzini Per poi Magari accanircisi dopo Ma trovo veramente Una roba Tipica di quest'epoca Meravigliosa Fatta di contraddizioni E follia Però Però ragazzi Che vi devo Cioè È stata la cosa Che più mi ha Lasciato un po' Scioccato Ieri sera Perché io posso capire Però Così Così faccio fatica Così Cioè Vabbè Lasciamo per Comunque A di là di tutto Tornando Tornando al calcio giocato Ragazzi Io mi auguro Che la Fiori Attiva Si possa arrivare Mezza soddisfazione Prima o poi Che comunque Il percorso che stanno facendo È apprezzabile La crescita La crescita Del progetto Si vede Centrale due finali È un traguardo Importante Per quanto Non porti a nulla Che si fissa Nella storia Però è comunque Apprezzabile Comunque testimonianza Di quanto lavoro ci sia Dietro a sta squadra Speriamo Che possano Quagliare Al di là Delle simpatie Antipatie Che ciascuno di noi Può avere Per questa Quella squadra Però Da Persona che Si me le ricordo Le cose Del 99 Ragazzi C'ero Però Io non Io non so Rancoroso De carattere Purtroppo Per fortuna C'ho sta caratteristica E Bene o male Se poi C'ho degli amici Che appartengono A una certa Tiposeria Quando Penso a quella squadra Penso più ai miei amici Che alla squadra In sé che poi È un elemento astratto La squadra La squadra Sono anche quelli Che la tifano Per cui Anche tra i laziali Magari c'è tanta gente Che non è apprezzata Eppure Anche lì Uno va Molto per simpatie Io L'unica squadra A cui non mi riesco A far trasportare Chiaramente la Roma Ma per ovvi motivi Ma anche lì Poi Al netto del mio A volte goderci O sfottere C'è comunque Un po' di dispiacere Per quegli amici Della Roma Che c'ho Per cui Credo che a volte E questo è un discorso Che si applica Anche a quello che dicevo prima Vivere il calcio Con un po' meno Di Accanimento Con Passione Passione Sì Ma senza La cattiveria Che è quello che potrebbe Aiutarci a vivere Lo sport In maniera un po' più serena A godercelo di più A divertirci di più E anche a sdoganare Un po' di quelli sfottò Che farebbero parte Del gioco Io vi posso dire Che poi chiudo Giuro Ma me lascio sempre prendere Io personalmente Sono un tipo da sfottò I miei amici lo sanno Mi piace Prendere in giro Mandare qualche meme Ai miei amici Quando perde la loro squadra Qui sul canale Io ho limitato Questa mia parte di sfottò Perché mi rendo conto Che A potrebbe essere Completamente travisata E non mi va C'è tanta gente Che è pronta A strumentalizzare Qualsiasi battutina Che uno fa Quindi la limite Non è un problema Ma soprattutto Perché stiamo In un contesto sociale In cui Lo sfottò Non viene compreso Come sfottò Viene preso Come un Ah tu fai la battuta Allora In realtà Da quella battuta Nascondi una cattiveria Cioè Credo che se tutti Ci prendessimo un po' più Alla leggera Si potrebbe anche Scherzare di più E sarebbe bello Poter scherzare di più Se però ci fosse Un clima Fertile Per poter scherzare Ecco Siccome mi sono reso conto Che specialmente Sui social Non c'è questo clima Io quella parte La sto tenendo Ai margini Limitandomi a delle analisi Un po' più Tranquille Ecco Lo sfottò In quanto tale È un elemento Di cui si può fare a meno Peccato Però perché ogni tanto Sarebbe bello Fare una battutina Io poi ogni tanto Qualche Qualche Un po' di ironia Ce la metto Però mi piacerebbe Poter fare di più E non si può Ragazzi Non si può Non si può Per carità del Dio Comunque Al di là di tutto Ragazzi Io vi saluto Poi dobbiamo parlare Un po' della Lazio Nei prossimi giorni Volevo farlo oggi Ma appunto oggi C'è stata sta cosa La Fiorentina Credo che fosse più interessante Parlare di questo Anche perché Si è riattivato un po' No? Qui a Roma Tutte le chiacchiere Se ne so Legge certe Questi giorni Sui giornali Sui radio Le senti Vabbè Avremo Avremo la nostra Bella estate Intenza Come ogni anno Comunque Posso dirvi che E poi chiudo Giuro Nelle intenzioni Visto che Ormai sono mesi Che parliamo Parlo con tanti di voi Anche in privato Vorrei fare in modo Di rendere sto canale Un po' più Frequente Nelle pubblicazioni Parlando anche di più cose Magari Non lo so C'ho qualche idea Adesso poi ci danno gli europei Per cui parleremo anche di quello Ovviamente Però Visto che C'è tanta C'è tanta community Qua che vorrebbe Parlare in un certo modo Di calcio Perché no? Non è un problema Anzi Io se sento intorno a me Voglia di comunicare Di confrontarsi Peraltro con una community Sanissima Una delle poche Quando si parla di calcio Sarebbe un peccato Non approfittare Per cui sappiate Che sto considerando Delle cose da poter fare Anche banalmente Per giocare un po' insieme A volte Per cui Grazie a tutti quelli Che puntualmente Fanno presente La loro voglia Di partecipare a sta community Di parlare di calcio In maniera un po' meno tossica Se ci riusciamo ragazzi Diventiamo un miracolo Sul web A mantenerci così Per cui Grazie a tutti quelli Che stanno in qualche modo Contribuendo a questa A questa cosa Ragazzi Io vi mando un abbraccione Sempre a forza Lassio Che male non fa E noi ci vediamo Alla prossima